La polizia ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due cittadini stranieri, un iracheno di 24 anni richiedente asilo politico e un afgano di 22 risultato inottemperante a un provvedimento di espulsione. Quest'ultimo era stato notato nel pomeriggio del 5 luglio scorso dagli agenti della squadra mobile mentre usciva da uno stabile in via Vasari. I poliziotti hanno deciso di effettuare il controllo trovando addosso al giovane un panetto di hashish di circa 50 grammi. Gli accertamenti hanno portato in serata ad individuare l'appartamento all'interno del quale si era svolta la vendita dello stupefacente. D'intesa con la procura della repubblica è stata effettuata una perquisizione a carico del cittadino iracheno che ha portato al rinvenimento di circa 100 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. I due stranieri sono stati condotti al coroneo a disposizione della procura della repubblica che coordina le indagini. Nella circostanza è stato anche denunciato un altro cittadino afgano di 30 anni trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish.